buongiorno a tutti e ben ritrovati sui nostri schermi di casa del sole tv a parlare oggi di storia della scienza e di scienza in senso più generico e lo facciamo con il nostro uno dei nostri fisici di riferimento ma il nostro anche compagno di avventura perché cofondatore di pandora e di casa del sole tv roberto germano buongiorno roberto ciao a tutti grazie jess roberto anzi esimio dottor germano uno dei cruci che io mi preferisco egregio 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 dottore si scriveva così anche sulle buste da lettera che ora non si usano più tanto egregio dottor germano io ho un crucio che va crescendo specialmente dal 2020 in poi sempre di più ma anche da quando più spesso intervisto te e i tuoi colleghi e il mio dubbio ciò che non riesco a capire è come mai la scienza ha fatto dei passi da gigante così enormi la scienza e la tecnologia però spesso la popolazione umana le persone comuni non ne traggono così tanto beneficio e mi pare evidente che molte ricerche avrebbero dovuto farci vivere meglio e magari anche darci energia sostenibile a basso costo invece vengono spesso e sono state spesso boicottate nella storia e a volte anche non capite tanto per iniziare roberto cosa per esempio diamo un esempio al nostro ai nostri ascoltatori che cosa dissero i tuoi colleghi scienziati quando è stata scoperta la deriva dei continenti per esempio è un esempio storicamente che forse alcuni ancora ancora ricordano perché è una cosa che tutti no abbiamo studiato la scuola elementare sostanzialmente almeno quei della nostra generazione per non parlare dei successivi ma se pensiamo ai nostri genitori all'epoca in cui i nostri genitori adesso ci abbiamo non so io ho 55 anni tu magari ne hai qualcuno in più insomma però sostanzialmente i nostri genitori quando andavano alla scuola elementare la teoria della deriva dei continenti veniva considerata cioè non veniva considerata in quanto dalla scienza dell'epoca veniva considerato una una grossa un grosso errore una grossa sciocchezza diciamo che noi sappiamo che chi è che ha scoperto storicamente la teoria della deriva dei continenti wegener wegener il quale non era un geologo nel 1912 cominciò a dire guardate ma le coste del sud america e dell'africa si corrispondono l'aveva già detto balcone nel 1620 si trovano delle delle dei fossi e delle rocce simili sulle due coste eccetera eccetera e quindi c'era una serie di indizi che insomma erano abbastanza a favore di questa cosa ovviamente c'erano le le tutte le motivazioni contrarie no stiamo parlando di masse enormi di continenti come si fanno a spostare quale la quale può essere il meccanismo che fa spostare queste cose e quindi praticamente iniziarono a a dire una serie di una serie di 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 critiche praticamente rispetto a questa cosa no allora ne voglio citare qualcuna perché può essere può essere interessante ad esempio dissero è un parto e la fantasia dissero sono i vaneggiamenti di un malato grave della malattia della rotazione della crosta e dell'epidemia dello spostamento dei poli oppure una ricerca del tutto fallita come possa muoversi un continente formato da uno spessore di ben 35 chilometri di solide roccia non è mai stato spiegato veramente un altro disse non dovremmo prendere su serio la deriva dei continenti e poi un altro che fu più buono disse si tratta del sogno di un grande poeta ma stiamo parlando cioè lui elaborò wegener questa teoria appunto all'inizio del ventesimo secolo intorno al 1912 ma 40 anni dopo all'inizio degli anni 50 queste erano la considerazione quindi i miei genitori che sono mia mamma del 31 mio padre del 28 erano influenzati da queste ampiamente ma anche alla scuola superiore studiavano che la teoria se per caso arrivava questa notizia la notizia diceva sì c'è un certo wegener che dice questa cosa ma è una cosa del tutto sballata diciamo questo è quello che i miei genitori poi noi alla scuola inventare l'abbiamo studiato perché perché poi ci furono come spesso accade avvengono dei fenomeni pratici si trattava di mettere dei cavi sottomarini intercontinentali no quindi diciamo la tecnologia e praticamente quindi questa grossa sfida portò ad andare a vedere come fosse la struttura geologica sotto le profondità marine e quindi si scoprì che effettivamente c'erano le faglie tra i continenti dove c'era questa emissione di lava e quindi questo permetteva poi causava piano 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 l'allontanamento diciamo della separazione della crosta però diciamo fino a quel momento sembrava una cosa del tutto assurda anche se c'erano tante e quindi lui fu preso per pazzo per circa 40 anni quindi queste cose poi uno tende a dimenticarle perché poi l'hai studiato la scuola elementare a quel punto diventa una cosa del tutto ovvia un'altra cosa è un esempio ma probabilmente ne sono ce ne sono altri e forse sta succedendo anche adesso poi dopo sarvi questa è una cosa dei nostri nonni diciamo nei nostri nonni nostri genitori scusi ma diciamo nostri nonni per esempio mio nonno per esempio un nonno materno è nato alla fine dell'ottocento un altro è nato proprio nel 1900 purtroppo non ci sono più però sostanzialmente all'epoca nel 1905 si pubblicavano ancora articoli cioè se io ti chiedo le meteoriti hanno origine extraterrestre tu che mi rispondi sì ma io credo di fuori dalla terra credo che per forza debbano averla venire fuori dalla terra allora fuori dalla terra non sarebbero meteoriti che è una pietra esatto noi ormai lo sappiamo lo abbiamo studiato per noi ovvio per definizione di meteorite attuale nel 1905 c'erano ancora uscivano degli articoli ancora pubblicati su nature su riviste importantissime in cui si riportava l'ipotesi la teoria secondo cui le meteoriti erano delle pietre colpite dai fulmini in quanto si quando c'era questo evento molto veloce no perché alla fine non è che c'erano le videocamere uno osservava ad occhio questa scia luminosa poi se era fortunato andava sul posto e cosa trovava trovava una pietra fusa in alcuni casi se era velocissimo era ancora calda allora due più due magari c'erano anche gli alberi bruciati intorno all'erba bruciata allora le ipotesi erano svariate no c'era chi diceva è un fenomeno ottico poi c'era chi andando sul posto trovava la pietra fusa dice no non può essere un fenomeno ottico siamo riusciti a vedere che c'era una pietra fusa quindi se fosse un solo un fenomeno ottico non troveremmo questa pietra fusa e allora il fenomeno molto più probabile che sia un fulmine che ha colpito la pietra ma perché poi c'era anche chi diceva è una pietra che viene da fuori infatti si vede la scia eccetera eccetera ma molti dicevano ma scusate come è possibile che sia una pietra che viene da fuori dalla terra quando tutti sanno che fuori dalla terra non ci sono pietre questo questo era il pregiudizio no addirittura l'auasier uno dei padri della chimica moderna diceva proprio questo tutti sanno che non ci sono pietre fuori dal pianeta come fa a cadere una pietra addirittura alcuni dicevano gli oggetti che cadono ipotesi per cui e possono esistere degli oggetti che cadono dallo spazio contraddicono le leggi della meccanica ma su che basi dicevano tutti sanno che al di fuori della terra è perché c'erano dei pregiudizi no come adesso e questo è interessante come uno sforzo interessante sarebbe capire anche quali sono i pregiudizi ma ce ne sono di più banali poi un meteorite cadde abbastanza vicino a parigi e tutti i dati portavano a concludere che effettivamente era una diciamo una pietra che proveniva dallo spazio esterno e qui alla fine si affermò questa teoria che fino al 1905 parliamo di quando i miei nonni stavano a scuola attenzione non stiamo parlando di di cose del 1500 di milioni biologiche stiamo parlando di cose quindi queste cose sono successe a noi adesso sembra sembra strano perfino ricostruirle ma sono cose diciamo che fanno parte della cronaca della scienza non è neanche storia praticamente è cronaca della scienza ma ci sono delle situazioni ancora più che per noi possono essere ancora più strane no per esempio quando alexander granbell iniziò a parlare della della possibilità di avere diciamo un telefono ci furono degli scienziati tra cui il poverino il sir sir william priest che praticamente era diciamo uno scienziato dell'epoca e purtroppo adesso lo ricordiamo solo per questo poi ha fatto tante cose buone però era uno dei più importanti scienziati inglesi dell'epoca era membro della royal society aveva studiato con michael faraday insomma non è che era l'ultimo arrivato la cosa disse cito letteralmente l'inghilterra è piena di ragazzini che possono portare messaggi a cosa serve questo questa è la sua ragazzini e poi lui non capiva nemmeno l'utilità di una cosa e poi lui si distinse per un'altra affermazione a proposito della lampadina disse ma questa è un'idea completamente idiota quindi diciamo solo diciamo lui ne ha detto almeno un paio di cose adesso la lampadina è il simbolo del viene usato come simbolo dell'idea no e lui disse che era un'idea sì però era completamente idiota insomma queste sono le cose che sono successe ma successe cose ancora peggiori no io prima ho detto che questo scienziato aveva lavorato con michael faraday quindi era stato al centro di una rivoluzione no il collegamento tra elettricità e magnetismo no che fu che è opera di michael faraday quando lui si accorse che muovendo un magnete un avvolgimento si generava una corrente elettrica un fenomeno che all'epoca sembrava assurdo perché sembrava non ci fosse nessun collegamento tra l'elettricità e il magnetismo perché l'elettricità erano le pile quindi la scoperta dell'elettromagnetismo esatto praticamente la scoperta empirica sperimentale dell'elettromagnetismo la mentre il magnetismo era quello delle bussole quello della pietra magnetica insomma quindi sembravano due cose assolutamente lui che empiricamente fece questo nesso prima ovviamente della teoria molto prima ora lo sappiamo perché abbiamo anche come dire il la dinamo e la bicicletta che fa questo questo lavoro quindi è un fatto che lo sanno anche i bambini no ma lui addirittura fu accusato di essere un charlatano addirittura cioè fu accusato nel momento in cui fece vedere il fenomeno pubblicamente la cosa era talmente inattesa dal punto di vista concettuale che lui che crea crede crede lo accusarono di essere un imbroglione praticamente quindi questa è cosa ma una cosa del genere avvenne anche quando fu mostrato per la prima volta il fonografo all'accademia delle scienze di parigi praticamente credettero che ci fosse un ventrilo cioè credettero che ci fosse proprio un imbroglio dice non può essere e quindi addirittura praticamente serrarono praticamente con la mano alla gola insomma quello che stava dimostrando e praticamente però continuava a emettere suoni quindi si convinsero che non era un imbroglione cioè siamo cose che adesso ci sembrano praticamente c'è un limite all'immaginazione dell'immaginazione umana diciamo proprio delle sì esiste questo tipo di volante la stessa cosa con i raggi x con i raggi x scoperti da derentgen no in pratica gli dissero innanzitutto anche anche nel suo caso lui fu accusato di stare imbrogliando perché ovviamente lui vedeva le ossa attraverso la mano non le famose prime immagini e proprio le ossa attraverso la mano e allora dice sta imbrogliando una cosa addirittura lord kelvin uno dei più grandi scienziati dell'epoca disse che era un abile trucco poi dopo quando si convinse si convinse anche lui del fatto che era un fenomeno sperimentale praticamente disse vabbè ma sì è interessante ma cosa può mai servire una cosa del genere diciamo lo stesso kelvin che appunto non era anche lì stiamo parlando di uno scienziato che ha dato un contributo alla scienza fondamentale quindi noi dobbiamo credo capire questi limiti diciamo perché la scienza è una opera umana no cioè non è che è fatta da semi dei o dei che in qualche modo di fronte alle novità siamo tutti talvolta un po spiazzati perché abbiamo un modello nella realtà in cui magari la novità sperimentale non si inserisce facilmente anche cose che adesso sono note ai bambini all'epoca grandi scienziati non riuscivano a inquadrarle nella loro visione del mondo perché c'è un altro caso eclatante erano persone comuni che hanno studiato erano erano scienziati erano scienziati però anche lo scienziato ha un modello di realtà naturalmente no ovviamente anche lo scienziato più fuori magari è riuscito a scoprire una novità eclatante nel campo in un campo diciamo della fisica però magari non non coglie un altro aspetto nel campo della chimica e così via sono cose che purtroppo succedono questo è il motivo per cui spesso le scoperte davvero eclatanti vengono fatte non dall'esperto da quello che in quel momento viene considerato l'esperto di quella disciplina ma vengono spesso fatte da una persona che viene da un'altra disciplina magari esperto di un altro ambito e però riesce a vedere da un altro punto di vista quei problemi e trova quello che poi si chiama luogo di colombolo magari la cosa semplice a cui non si è riusciti a pensare perché si era totalmente inquadrati in quel tipo di visione ad esempio un altro caso eclatante su cui recentemente ci sono anche degli spettacoli teatrali che ne anche un film è stato fatto nella vita di ignaz semmelweis lui era un medico austriaco nel 1847 si rese conto di un fatto strano cioè in pratica c'era una grandissima mortalità nei reparti medici in cui si facevano partori le donne che lui si ebbe un'intuizione i medici dell'epoca spesso venivano da una dissezione di un cadavere provenivano dalla sala della dissezione del cadavere poi senza lavarsi le mani cosa che per noi adesso andavano a fare un altro intervento andavano a far partorire le donne praticamente c'era un'elevatissima diciamo mortalità perché era setticemia c'era adesso per noi sono cose appunto che anche un bambino le capisce sono cose banali no ma all'epoca i medici al fatto che non dobbiamo dimenticare che all'epoca diciamo non era non era neanche stato individuato il concetto di batterio patogeno no cui lui parlava dell'ipotesi che esistessero che esistessero delle diciamo così dei nemici invisibili piccolini degli animaletti monocellulari cioè lui non sapeva neanche cosa fosse però fece due più due e capì ma se per caso perché poi ovviamente approfondì molto la cosa eccetera vi consiglio di vedere queste opere teatrali o il film che ne parlano perché fanno capire molto bene questa cosa lui capì fece anche ovviamente uno studio degli studi molto approfonditi ma la cosa diciamo eclatante è che i medici dell'epoca gli diedero addirittura del pazzo cioè fuori di testa cioè non era con questa cosa era così strana e la loro nel loro modello di realtà che lo presero proprio per pazzo anche vero che incredibilmente dopo aver scritto un libro intero sull'argomento in cui lui dissertava spiegava approfondiva eccetera eccetera poi c'era la statistica c'erano le statistiche lui addirittura fu rinchiuso in manicomio dove morì per setticemia quella che adesso noi chiamiamo setticemia a seguito di una colluttazione con un infermiere diciamo come della beffa anche della sorte perché lui poi morì della stesso tipo di malattia dovuto a questo tipo di situazione quindi diciamo veramente la tragedia e adesso diciamo noi per noi un bambino è normale davatele mani sono le mani eccetera eccetera quindi sono cose che troppo perché siamo anche troppo anche troppo negli ultimi tempi anche troppo però diciamo stiamo parlando anche qui di che cosa del 1847 quindi stiamo parlando sostanzialmente dell'epoca dei nostri bisnonni perché se i nostri nonni sono nati a fine ottocento i nostri bisnonni erano nel 1847 stiamo parlando dei nostri bisnonni non stiamo parlando di quindi non tanto tempo fa e stiamo parlando di questo quindi diciamo a volte è difficile rendersi conto di questo tipo di di fenomeni quindi ovviamente poi a un certo punto in questi casi la scienza poi ha elaborato prassi idee che ci sono state utili per esempio questa e ha continuato a farlo tante volte ma a volte naturalmente c'è il sospetto che invece faccia il contrario diciamo che esistono due fattori io posso schematizzare un fattore e questo di cui abbiamo discusso finora che è molto forte cioè la naturale diciamo difficoltà di cambiare paradigma cambiare modello con della di realtà anche in cose che adesso ci sembrano assolutamente ovvie questo è un fattore che fa parte della storia della fisica e che comunque se non viene percepita a volte anche da ricercatore dal ricercatore accademico perché a volte come è capitato a me io volevo mettere nel piano di studi di fisica dello stato solido fisica della materia volevo mettere l'esame di storia e filosofia della scienza e il dire il presidente del piano di studi responsabile del piano di studi mi disse ah non si possono cavalcare due cavalli perché io poi non capì neanche sul momento cosa volesse intendere e poi scoprì che l'esame di storia e filosofia della scienza in realtà lui intendeva questo perché l'esame di storia e filosofia della scienza era un esame fondamentale nel piano di studi cosiddetto fisica didattica che era quello che facevano i fisici che poi volevano andare ad insegnare io nel piano di studi fisica della materia secondo lo schema diciamo una cosa non avrei dovuto andare a insegnare e secondo diciamo questa visione schematica la storia della filosofia della scienza diventava secondaria cosa che secondo me è assurda no perché la storia fondamentale è importante in tutte le discipline cioè è una cosa che se tu non sai come si è evoluto il pensiero cioè non puoi studiare secondo me neanche la geografia insomma perché la storia fa parte di qualsiasi disciplina tu perdi il nesso con l'evoluzione delle idee di come le idee si sviluppano e quindi non capisci che se tu se cento anni fa o cinquant'anni fa si arrivava a questo tipo di situazioni tu non hai la percezione che attualmente ci sono delle situazioni analoghe in cui io se di fronte a una novità sperimentale posso trovarmi nella stessa identica situazione mentale in cui non riesco sul momento a percepire che quella cosa sia davvero possibile quella diciamo la getto via getto via il bambino l'acqua sporca come dicono diciamo gli anglosassoni e non riesco a prendere la parte buona e quindi ipotizzare che effettivamente quella 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 informazione possa avere del buono siccome c'ho una mia visione la getto la getto via e quindi perdo qualcosa di importante i militari devo dire la verità da questo punto di vista sono molto più attenti appena vedono una minima cosa che potrebbe avere un'applicazione si gettano su quella cosa e siccome hanno budget diciamo molto grandi diciamo si divertono molto ad approfondire e poi spesso questo è l'altro fattore il fattore che tu dicevi ma perché alcune cose poi l'altro fattore che tu hai che a volte sono dei centri di interesse che possono essere i militari come è successo con la criptografia questo è già un tema già un tema roberto perché infatti come mai i militari hanno tutti questi fondi invece le ricerche che ci potrebbero essere utili per noi non li hanno quindi ma questo ce lo diceva anche un presidente degli stati uniti pochi anni fa di stare attenti a questo tipo di meccanismo che si stava instaurando nel suo paese no non so come ben sai il famoso discorso di Eisenhower praticamente il complesso militare industriale allora lui se ne accorse Kennedy provò a fare qualcosa e diciamo probabilmente uno dei motivi per cui è stato eliminato è stato anche questo come ben sappiamo però diciamo ovviamente è chiaro che nel momento in cui tu hai un potere poi ovviamente questo questo tipo di meccanismo genera diciamo i figli che uccideranno questo tipo di meccanismo perché sostanzialmente è chiaro che come è successo adesso quando tu inizi a creare un'istituzione il cui scopo è portare avanti se stessa è chiaro che a un certo punto vai incontro a tali degenerazioni per cui alla fine anche se l'istituzione in realtà vuole sopravvivere vai incontro a tali degenerazioni che poi non ce la fa più come sta succedendo diciamo adesso in molti paesi che hanno portato avanti questo tipo di discorso allora uno si pone giustamente come dicevi tu credo il dubbio ma adesso quindi ci sono degli argomenti che per un motivo per un altro subiscono lo stesso tipo di storia allora in realtà appunto non esiste mai una componente sola una componente è anche quella della difficoltà di inquadrare scientificamente nel paradigma del corrente quel tipo di novità appena la novità esce fuori no perché noi siamo tutti è giusto che esista una componente ottima della scienza e anche il suo conservatorismo la scienza deve avere una componente di conservazione però come diceva anche Feyerabend che è uno dei più grandi epistemologi del XX secolo preservare diciamo l'ipotesi della coerenza per cui la nuova teoria deve essere coerente con la vecchia preserva la teoria più antica non la teoria migliore e quindi diciamo non è mai stato così nella storia della scienza ci sono degli shift, delle vere e proprie transizioni in cui si salta fuori un nuovo modello di realtà per esempio c'è un nesso tra magnetismo ed elettricità fino a quel momento non c'è nessun nesso a quel punto poi dopo i fenomeni sperimentali sorge un teorico che come nel caso Maxwell che mette insieme quei fenomeni sperimentali e scrive le equazioni cosiddette dell'elettromagnetismo quindi diciamo è così che la scienza va avanti anche per salti per salti di come si dice di paradigma per cui c'è un periodo di scienza normale in cui come diceva Kuhn in cui si studiano tutti i dati sperimentali di quel tipo di modello che in quel momento è anche nuovo magari che fa capire tante cose nuove a un certo punto in quello stesso modello si accumulano tante di quelle anomalie sperimentali per cui a un certo punto c'è uno shift di paradigma, una transizione di modello e esce fuori un altro modo di vedere quella realtà che spesso è anche più semplificato perché tu riesci in maniera più semplice a inquadrare tanti fenomeni che nel vecchio modello avevano bisogno di una complessità enorme per essere diciamo così inquadrati noi dobbiamo sempre ricordare che la scienza va per modelli e non è una mappa la scienza è una mappa, non è la realtà come in tutte le cose umane è importante questo perché altrimenti poi confondiamo la realtà come dire la mappa con il territorio, ma il territorio è una cosa e un'altra cosa è la mappa, la scienza moderna è sempre una mappa e quindi si evolve con la conoscenza del territorio che non può avvenire tra il suo mappa, banalmente Senti Roberto, c'è questo modello oltre a questioni di interesse che sono ovvi c'è anche questo modello pregiudiziale che ha comportato il boicottaggio e lo stop per esempio delle ricerche sulla fusione fredda di cui io sapevo ben poco perché non capivo neanche bene la differenza tra fissure Sì, noi ne abbiamo parlato, certo, quello è un altro degli argomenti che incredibilmente, un po' come la teoria della deriva dei continenti rischia di diventare un po' come la teoria della deriva dei continenti che ha avuto bisogno di 40 anni per affermarsi e nel caso della fusione fredda adesso siamo a, diciamo, dall'89 insomma, stiamo avvicinandoci piano piano ci avviciniamo però come abbiamo visto le altre volte diciamo che grosse aziende se ne stanno occupando i militari sicuramente hanno ottenuto i loro risultati l'abbiamo visto le altre volte non è il caso ora di tornarci su quindi sicuramente quello è uno dei campi che però più che per motivi energetici come tutti credevano all'inizio anche per motivi militari ha avuto la sua, il suo insabbiamento diciamo così oltre che, oltre che come io descrivo nel mio saggio sulla fusione fredda ovviamente l'aspetto scientifico c'erano delle serie motivazioni scientifiche per non credere a quei fenomeni sperimentali però molti hanno intuito che invece potevano essere fenomeni sperimentali e fin dal, diciamo, io l'esperimento l'ho fatto nell'89 io nel 95 cominciai a scrivere il libro quindi già, diciamo, sei anni dopo c'erano tanti di quegli esperimenti di quegli articoli pubblicati che già un giovane laureato in fisica come me poteva capire che si trattava di un vero fenomeno da approfondire tant'è vero che ci ho scritto il libro quindi se qualcuno adesso non lo capisce o, diciamo, o non ha approfondito bene l'argomento o non lo vuole, diciamo, approfondire dove sono le cose e fra l'altro anche in questo caso gli italiani l'Italia è un'eccellenza perché ho capito che l'esperimento italiano è quello che... sì, tra l'altro io voglio dire che proprio oggi ho avuto un messaggio da Francesco Celani in cui mi dice che praticamente gli hanno chiuso il laboratorio non so se a te è capitato di saperlo però sostanzialmente lui mi ha detto che questa mattina... infatti lo intervisterò di nuovo a breve perché sì, un po' ce lo aspettavamo ancora non era... quindi è stato chiuso definitivamente adesso speriamo non definitivamente però lui ha detto che proprio questa mattina ha avuto la speciale sorpresa di trovare il laboratorio bloccato laddove invece il progetto europeo a cui lui sta lavorando continua per altri... almeno per altri sei mesi e sta dando risultati interessanti quindi c'è un progetto europeo finanziato su questo argomento di cui lui è uno degli elementi chiave sicuramente comunque molto importante perché diciamo a lavorare su questi argomenti sono rimaste le nazioni principali sono sostanzialmente l'Italia, il Giappone, gli Stati Uniti e la Cina diciamo per voler schematizzare e diciamo lui in Italia è uno di quelli che più ci sta lavorando e purtroppo proprio stamattina ha avuto questa spiacevole lui un po' diciamo appunto glielo avevano detto tant'è vero che l'avevi già intervistato qualche settimana fa però proprio di oggi c'è questa notizia molto negativa rispetto a questa cosa chiaramente ci sono anche motivazioni banalmente burocratiche voglio dire le cose poi si mischiano no voglio dire non è che la burocrazia si mischia con ma è corretto pensare è corretto pensare che ai militari non interessa questo genere di ricerca perché non gli serve per fare le bombe perché con la fusione no diciamo che come noi vedemmo la volta scorsa è molto probabile che i cosiddetti proiettili ad uranio impoverito in realtà funzionino sulla base di questi meccanismi ed è forse uno dei motivi per cui nell'89 fu insabbiata la ricerca di Fleischmann e Pons tanto è vero che nel 90 poi si cominciarono a usare queste armi sui vari teatri di guerra e ormai ci sono diverse evidenze e quindi di questo parlammo la volta scorsa ci sono vari fattori come spesso accade non c'è mai un solo componente cioè come dire la scienza è sempre una cosa che riguarda la natura umana e quindi diciamo come dire la sociologia e la scienza è importante per capire come si evolvano anche i fatti scientifici esistono delle lotte interne nella scienza che sono sia dovute a visioni diverse degli sperimentatori e degli scienziati ad esempio molti dimenticano che prima della teoria atomica che adesso ci sembra la cosa più antica del mondo c'è stato un periodo molto lungo in cui c'era la teoria energetista tant'è vero che lo stesso Boltzmann che è stato uno dei padri fondatori della teoria atomica con la meccanica statistica in pratica capisce che ci sono queste particole insomma praticamente si suicidò perché non veniva accettata la sua ipotesi e diciamo se tu avessi parlato all'epoca a dei professori all'università dell'ipotesi atomica avrebbero detto ma che stai ritirando fuori le idee degli antichi filosofi greci noi ci dimentichiamo di questi ed è successo appunto anche qui all'epoca dei nostri trisavoli cioè non stiamo parlando poi la transizione verso la teoria atomica è avvenuta lentamente adesso ci sembra che sia sempre esistita che sia ovvia e che non c'è alcun dubbio ma c'è stata una grossa lotta in cui quelli che portavano avanti l'ipotesi atomica quella che all'epoca si chiamava l'ipotesi atomica venivano considerati veramente allo strego di ciò che abbiamo detto prima cioè dei pazzi, dei visionari eccetera eccetera e poi ha vinto la teoria atomica ma diciamo poi vabbè c'è stata la meccanica quantistica che è andata oltre però è chiaro che così funziona la scienza ci sono queste shift queste transizioni di modelli di paradigmi e noi dobbiamo renderci conto essere pronti ai successivi shift in questo momento mentre noi parliamo c'è qualcuno che sta portando avanti delle idee diciamo assolutamente originali o ci sono delle idee di questo tipo che magari ci sono come abbiamo detto prima da dieci anni, da vent'anni, da trent'anni e che stentano ancora ad affermarsi per motivi sia filosofici e sociologici ma anche per motivi talvolta del nostro mondo che è basato sul diciamo sul capitalismo tra virgolette capitalismo molto tra virgolette questo tipo di società è basata sul fatto che le multinazionali prima di cambiare diciamo un certo tipo di impostazione ci pensano dieci volte quindi magari magari fosse davvero capitalismo il capitalismo sarebbe più efficiente da questo punto di vista perché permetterebbe alle nuove società di dire va bene ma io punto questa cosa per vincere ma invece quando tu hai un blocco enorme che decide davvero può andare solo incontro alla degenerazione che alla fine continua 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 in quella direzione finché alla fine non crolla sotto i propri stessi errori ed è quello che sta succedendo in molti ambiti in questa transizione che stiamo vivendo ecco questa transizione Roberto perché forse lo stiamo attraversando proprio adesso uno di questi momenti di transizione anche scientifico oltre che per tutto il resto sembra proprio di sì e tu ce lo insegni anche lo vediamo dal manifesto che hai dietro le spalle Sì perché infatti un altro degli ambiti che ancora soffre di questo tipo di problematica sono i nuovi studi che riguardano l'elettrodinamica quantistica applicata per esempio alla materia condensata alla materia quindi per esempio liquida o solida e diciamo una delle conseguenze ad esempio è che tutti gli studi che fanno capire cioè sono ormai di studi sperimentali una quantità enorme di cui io parlo nel mio libro Acqua ci sono un sacco di studi sperimentali anche teorici che fanno capire che l'acqua non è fatta come veniva modellizzata diciamo fino ad alcuni decenni fa non è un insieme caotico di molecole ma è qualcosa di molto più strutturata che in qualche modo ha una capacità di auto-organizzazione che poi è quella capacità di auto-organizzazione quella complessità che poi porta dal fatto di chiarirci perché la matrice è la vita perché noi come numero di molecole siamo più del 90% di molecole d'acqua ci deve essere un motivo solo adesso lo stiamo iniziando a capire noi con Oxy stiamo andando a focalizzare su una delle caratteristiche molto importanti da questo punto di vista cioè la capacità tra virgolette di estrarre energia dall'ambiente circostante dei sistemi acquosi complessi o anche semplici nel senso che noi stiamo andando a ingegnerizzare dei sistemi acquosi semplici in cui estraiamo una corrente un po' come nel fotovoltaico però invece di estrarla dalla luce visibile la estraiamo dall'infrarosso e l'infrarosso è un intervallo elettromagnetico che permea tutto il nostro mondo alla nostra temperatura ed è quindi fondamentale anche per gli esseri viventi noi stiamo capendo che queste cose che noi adesso stiamo ingegnerizzando come oxi quindi la possibilità di fare delle minicelle che estraggano delle correnti per applicazione di piccola potenza che estraggano energia diciamo dalla radiazione elettromagnetica dell'infrarosso che quindi praticamente è presente dovunque anche al buio è chiaro che questo molto probabilmente è anche una delle caratteristiche che insieme ai biologi andremo ad approfondire e a studiare nei prossimi anni quindi non dobbiamo demonizzare la scienza perché assolutamente è grazie a voi che comunque abbiamo anche un progresso positivo c'è un dibattito è molto importante è un dibattito e bisogna comunque restare molto vigili e attenti perché poi c'è anche una scienza che a volte va un po' per conto proprio ne abbiamo sentite di tutti i colori in questi anni ma non apriamo questa parentesi che ormai conosciamo tutti però se noi abbiamo la sensazione che non sia un dibattito ma sia una lotta sia una guerra come spesso accade su altri argomenti ricordiamoci che è successo così anche nel passato e quando non c'erano dei multinazionali anche lì appunto ad esempio tra gli energetisti e gli atomisti ci fu una vera e propria guerra se tu leggi cosa scrivevano gli uni degli altri hanno offese personali cose pazzesche quindi diciamo adesso è vero ci sono dei multinazionali militari che sono molto più legati molto più potenti eccetera eccetera ma diciamo che dal punto di vista sociologico questa è una cosa che chi conosce la storia della scienza in qualche modo non si meraviglia e quindi se dobbiamo essere pronti chi ha l'idea e la vuole portare avanti a questa lotta a questo tipo di situazione non è una cosa nuova non c'è da stupirsi non c'è da scandalizzarsi fa parte della dell'evoluzione del pensiero del resto anche Galileo Galilei non è che lo hanno trattato benissimo ecco è uno degli esempi classici che quindi spesso non lo citiamo perché si pensa che sia ben noto in realtà anche lì ci sono le sfumature che magari qualche volta potrebbe avere senso andare a ricordare ne dico solo una sì per capire la mente quando lui parlava delle montagne e la luna e diceva io vedo le montagne sulla luna all'epoca si credeva che i corpi celesti fossero perfettamente sferici perché la filosofia dell'epoca riteneva che i corpi celesti dovessero essere perfetti la perfezione stava nella sfericità per cui quando lui mostrò le montagne e la luna ci fu un gesuita Cristoforo Clavius in cui disse va bene ciò non toglie questo se tu vedi questa cosa vuol dire che c'è uno strato di trasparente cristallo intorno per cui la luna è comunque sferica questa cosa che tu vedi sta sotto al cristallo sta dentro al cristallo cioè per arrivare a capire quanto noi possiamo essere condizionati dalle nostre percezioni però dobbiamo anche ricordare che le prime osservazioni di Gaia e Lei non erano così limpide il telescopio il suo telescopio ovviamente non era come telescopi moderni era un telescopio con delle problemi quindi anche le sue osservazioni in realtà non è che fossero così nette per cui le sue osservazioni potessero c'era un dibattito e quelli che adesso a noi sembrano dei completi idioti che contrastavano diciamo la sua la sua visione non erano assolutamente degli idioti ma è come dire cercavano di ragionare anche in base alle sue osservazioni che inizialmente non erano così nette questo è molto importante e come accade ancora oggi con cose nuove all'inizio le cose davvero nuove non sono all'inizio così nette e quindi se noi già capissimo meglio cosa è successo a Gaia e Lei che viene considerato un classico tutti pensano di sapere davvero il dibattito come è andato e diciamo che davvero sì quelli erano stupidi e Gaia e Lei aveva ragione e perché quelli erano non è così la cosa è molto più complessa e quando la vedo approfondire ti rendi conto che ci sei adesso dentro assolutamente tu come scienziato come persona come persona che cerca intelligente che cerca di capire stai nella stessa condizione rispetto alle cose nuove che stanno vedendo fuori e forse per comprendere la realtà che ci circonda Roberto dobbiamo imparare un pochino anche ad educare il nostro cervello a pensare in modo in modo non così già preconfezionato certo certo di dimenticare ogni tanto il fatto che esistano discipline perché le discipline insomma spesso impediscono diciamo il trasferimento di visioni tra 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 dovremmo tornare un po' alla visione dell'uomo come era nel rinascimento e nel medioevo insomma più collegato che era più come dire capace di collegare cose apparentemente distanti il nostro schema è uno schema di quello che noi abbiamo studiato insomma e dovremmo tornare possiamo se sei d'accordo concludere anche così dovremmo tornare a quel modello che aveva proposto anche il nostro comune amico e maestro Giulietto Chiesa del centro di gravità in cui aveva messo insieme tutte le discipline in modo che ci si potesse confrontare perché da soli allora questo sforzo di cui stiamo parlando non lo posso fare io da solo non lo puoi fare tu da solo e è ovviamente uno sforzo collettivo di chi ha capito ciò che ci stiamo dicendo adesso come noi e grazie a Dio siamo moltissimi diciamo non è che non è un numero piccolo però diciamo come dire conoscendoci e interagendo anche quelli che ci ascoltano a casa vuol dire molti di loro hanno ben chiare le cose che ci stiamo dicendo non è che stiamo dicendo cose straordinarie però ogni tanto ricordarle è utile perché anche per non far sentire meno soli molti di quelli che ci stanno ascoltando che appunto si chiedono ma dove sono tutti gli altri stiamo stiamo lavorando a organizzarci per per generare il mondo e infatti speriamo che questi nostri momenti le nostre interviste di mezzogiorno e altre nostre riflessioni che facciamo su Casa del Sole TV servano proprio a questo Roberto certo questa è la nostra idea il nostro auspicio grazie grazie tantissime per la tua partecipazione e arrivederci a presto grazie a te tutti quelli che ci hanno ascoltato grazie a tutti voi per averci seguito in questa puntata un po' originale rispetto a quelli usuali continuate a farlo a scriverci a partecipare con noi iscrivetevi a YouTube se non lo siete iscrivetevi al nostro canale Telegram seguiteci anche su Telegram e sui social e buon proseguimento di giornata e buona fortuna a tutti grazie a tutti